A differenza di altri non ho molte certezze. Io Mario Draghi l'ho conosciuto in questo istante, personalmente. Adesso fa il Presidente del Consiglio. Lo possiamo prima valutare almeno come Presidente del Consiglio, no? Perché sono contenta di quelli che hanno tutte queste certezze senza sapere che c'è un governo politico o tecnico, quale sia la maggioranza che lo sostiene, quale sia il programma, quali siano le priorità. Io queste certezze non le ho. Ho una certezza che è legata alla coerenza di Fratelli d'Italia, per cui, diciamo, non posso dichiarare positivamente il mio voto e in questo le rispondo anche alla seconda domanda. Non credo che questo sarebbe stato possibile, perché per noi vuol dire in buona sostanza disconoscere tutto il lavoro che abbiamo fatto. Io non sono d'accordo sulle premesse. Credo che le premesse non siano, diciamo, condivisibili. E in questo sono stata abbastanza chiara. Non capisco la ragione per la quale l'Italia sia l'unica nazione al mondo in cui i governi passano sulla testa dei cittadini e vengono sostenuti da forze politiche che non condividono niente fra loro, con un lavoro che poi purtroppo, con un locuramento che porta all'immobilismo, e che noi abbiamo ampiamente vissuto. Non si risolve semplicemente con il Presidente del Consiglio. Poi spero di essere smentita, sarei felice per l'Italia di essere smentita, ma non si risolve solo il Presidente del Consiglio, perché noi siamo una Repubblica parlamentare e i provvedimenti passano in Parlamento. E quando arrivano in Parlamento bisogna cercare delle sintesi, sintesi o compromessi che dir si voglia. E lì purtroppo ho visto tanti provvedimenti partire incendiari e finire pompieri. E questa è la ragione per la quale era, diciamo, per noi difficile. Io ho proposto al centrodestra, come si sa, di trovarci per tenere la coalizione unita su una posizione intermedia di astensione. La scelta, la proposta per ora, insomma, poi vedremo come evolverà, perché ancora non è niente, è deciso fino alla fine. Però rimane che la proposta per tenere il centrodestra unito, Fratelli d'Italia l'ha fatta.